Andiamo un attimo allo sguardo dei giornali di ieri e abbiamo anche i giornali di oggi domenica 18 agosto, questi sono i quotidiani di ieri e volevo riportarvi così a conoscenza l'addio di Reggio Calabria al colonnello comandante dei vigili urbani di Reggio deceduto per un infarto mentre aiutavano persone a sbarcare, folle ai funerali di Cosimo Fazio stroncato da un valore nei soccorsi ai migranti, l'ex ufficiale dei carabinieri da poco guidava la polizia municipale è morto durante uno sbarco, nella foto vediamo il povero comandante dei vigili di Reggio Calabria torniamo alla lettura del quotidiano del Calabria, dicevamo dell'addio di Reggio Calabria al suo comandante dei vigili urbani, nominato da pochissimo, è stato sfortunato proprio Cosimo Fazio fotografato mentre coordinava i soccorsi al porto dove poi è deceduto improvvisamente l'ex ufficiale dei carabinieri da poco guidava la polizia municipale è morto durante lo sbarco comandante dei vigili urbani di Reggio Calabria, la città più grande del Calabria pacco bomba sull'auto sgomberato, uno stabile a Badolato, siamo nei pressi di tra Catanzaro Lido e Soverato intimidazione a dipendente comunale a Petilia invece nel Corotonese, tre raid a politici attentato anche a Squillace, siamo sempre nei pressi di Catanzaro Lido ucciso con una scarica di pallettone, la vittima di origine rumena, aveva 43 anni, il corpo trovato vicino a un lido balneare di Corigliano Schiavonea, omicidio nelle notte di Ferragosto alcune persone trattenute in caserma e queste sono le notizie del quotidiano della Calabria di ieri sabato 17 agosto l'ite tra vicini a Giri Falco, siamo qui tra Catanzaro e Lamezia, l'ite tra vicini un uomo ferito con un colpo di pistola, la persona che ha sparato durante la festa del paese è stata arrestata dopo un lungo inseguimento vediamo un po', la notizia poi è a pagina 12 andiamo a trovarla subito colpo di pistola colpo di pistola al vicino di casa, ferito a linguine sulle scale mentre tutto il paese è alla festa di San Rocco, le due famiglie da tempo in lite, l'uomo arrestato dopo un lungo inseguimento Ferragosto con il botto per poco a Giri Falco, non ci scappe il morto, per poco non ci scappe il morto, la comunità ancora è sotto shock per un episodio di tentato omicidio in un pomeriggio di festa cittadina per la ricorrenza di San Rocco, è giorno di Ferragosto che poteva trasformarsi in tragedia, un tentato omicidio ai danni di Vincenzo Ferraina, 36 anni pregiudicato di Giri Falco, perpetrato con un solo colpo di pistola, esploso da una Walter Calibro 7,65 con matricola cancellata e detenuta abusivamente da Roberto Quaresima 29 anni anche egli pregiudicato e residente nello stesso condominio di Ferraino sempre i fondi spariti dalla chiesa di San Francesco da Paolo, 1.400.000 euro circa l'ex sindaco di Paolo, vicenda che lascerà delle ombre, poi Iriti Arberis e il bisogno di identità questa era la prima pagina del quotidiano della Calabria, andiamo alla Gazzetta del Sud di ieri apriva sempre con il decesso del colonnello comandante dei vigili urbani di Reggio Calabria muore mentre soccorre i migranti, ieri funerali il cordoglio del Presidente della Repubblica Napolitano e Alfano alla famiglia, fermati due scafisti, al Ferragosto il comandante dei vigili urbani Cosimo Fazio, 56 anni, dava assistenza ai profughi sbarcati al porto e stato stroncato da un infarto Giri Falco al culmine di una lite spara al vicino, arrestato, abbiamo già riportato, poi la messa a termine intimidazioni per tenere a bada il clan Iannazzo, sempre dalla prima pagina della Gazzetta poi Parghelia, si arrampica su uno scoglio e poi si blocca per il panico, sempre dalla prima pagina della Gazzetta del Sud, Egitto, altre vittime, altre vittime nel venerdì della collera, l'esercito spara sulla folla anche dagli alicotteri, ennesimo massacro, fosse comuni nelle piazze sgombrate, vedete quanto sangue nella vicina Egitto Poi Letta e Holland, il presidente della Francia, censura, Unione Europea, Al Cairo, passato ogni limite e stanno tutti a guardare, bisognerebbe dare una mossa per intervenire PDL, Berlusconi comunque leader, sentenza Mediaset, anche se sarà fuori dal Parlamento questo dice il PDL, Berlusconi sarà sempre il leader del PDL Allarme dagli artigiani, i disoccupati, 3 milioni e mezzo, le proiezioni sul bilancio finale del 2013, poi lo spread ancora giù a 2,30, trainata dalle banche, anche la borsa a più 1,23 Ragazzetta del Sud, 17 agosto, racket della prostituzione, ucciso un rumeno, fermati nelle notte tre albanesi, tra di loro ci sarebbe l'uomo che ha imbracciato l'arma contro la vittima Dumitrake Ciobanu, 43 anni, è stato ammazzato a colpi di fucile nel parcheggio di uno stabilimento balneare con annessa discoteca, ce ne sono tanti stabilimenti balneari a Schiavonea questo qui è stato fatale, è stata diciamo disturbata la comunità di Schiavonea che è altamente turistica in questo periodo Rossano da 4 anni intescava la pensione della madre defunta, pensate 4 anni, arrestato e posto di domiciliare il figlio disoccupato della donna indecato con altre 6 persone Nella notte delle stelle gli Oscar ai testimoni della Calabria, lunedì sera l'assegnazione del riconoscimento ad alcuni figli illustri di questa terra e un dibattito sulla mala salute della sanità nostrana Pagina 20 della Ragazzetta del Sud, notizia della Calabria, una brutta figura per scopelliti dal centro-sinistra sarcastici commenti alla strigliata dell'Unione Europea sulla gestione dei fondi in agricoltura, l'onorevole Oliverio non regge scaricare tutto sulle amministrazioni precedenti. Come è noto la Commissione Unione Europea ha chiesto all'Italia di rimborsare circa 14 milioni di euro spesi in modo irregolare nell'ambito della politica agricola comune PAC. L'Italia è uno dei 15 stati membri dai quali Bruxelles intende recuperare complessivamente 180 milioni. Si tratta di irregolarità riscontrate negli anni 2005-2006, 2006-2007. In particolare per l'Italia la decisione viene applicata per debolezze ricorrenti nel sistema di controllo amministrativo contabile e fisico nel processo per la trasformazione degli agrumi in Calabria 8,937 milioni e Sicilia 4,861. In un'intervista a Lanza nei giorni scorsi il commissario alle politiche regionali, l'austriaco Joan Han, guida politica della direzione generale che gestisce ai fondi di coesione. Due terzi dell'intero budget dell'Unione Europea, altre 125 miliardi virgola 1, ha precisato che sui 16,7 miliardi i fondi strutturali dell'Unione Europea ancora di assorbire per l'esercizio 2007-2013 almeno 5 sono a rischio. Petire Policastro, Macherbe, intimidazioni, scontro, due esponenti di autonomia e diritti. Petire Policastro, siamo nel crotonese, conigli decapitati, case bruciate. Almeno si salvino le pediatrie, quanto dice il dottor Saullo, aspica una evoluzione dell'organizzazione sanitaria, appello del presidente della SIPO. Sempre da Reggio Calabria per il decesso del comandante dei Garabinieri, comandante dei vigili urbani di Reggio Calabria, muore mentre soccorre i disperati del mare. Tragedie durante le operazioni di sbarco di 154 profughi al porto, è deceduto, staccato da un infarto, il comandante dei vigili urbani Cosimo Fazio, colonnello dei Garabinieri, pantava una lunga carriera nella lotta alla criminalità e il cordoglio di Napolitano. Sicuramente qui lo stress è stato determinante in questa situazione tragica. Matacena favoriva la cosca di Indrangheta Rossini, Rosmini, chiedo scusa, la motivazione della Cassazione che ha confermato la sentenza di condanna dell'ex parlamentare. Poi sempre nel Reggino, Laureana Di Borrello, lei lo lascia, storie di stalking, storie passionali, lui la persegue dopo che lo lascia e tenta di ammazzare il rivale Stefano Alvaro, 23 anni dopo aver ossessionato la sua ex, ha travolto con l'auto il nuovo ragazzo arrestato dai Carabinieri. Preoccupanti i dati diffusi dal Viminale ma aumentano le donne che si ribellano. Nell'ultimo anno c'è stata un'impennata di denunce per stalking. Andiamo alla provincia di Catanzaro, dalla Cassata del Sud il 17 agosto, impiegato comunale nel Mirino, un finto ordigno è stato rinvenuto sull'automobile del responsabile dell'area amministrativa. Le indagini vanno in diverse direzioni, il dipendente si è detto scosso, cioè scioccato, la bomba, vedete il pacco bomba, sul tergicristallo dell'auto dell'impiegato comunale. Andiamo alla cronica di Lamezia del 17 agosto della Cassata del Sud, pagina 34, andiamo alla cronica scritta dal dottor Natrella, attentati per tenere a bada il clan Giannazzo, bisognava far vedere che la Cosca Giampa era ancora operativa ed evitare che il gruppo rivale sconfinasse agli atti dell'operazione per sé o anche la dichiarazione di Luca Piraina in merito all'intimidazione al negozio di scarpe al centro commerciale di Feroleto Antico. Andiamo a vedere un po' i dettagli di quest'articolo, sarebbe stato messo a segno della Cosca Giampa, all'atto di intimidazione compiuto contro il punto vendita di Pittarello Calzatore a Feroleto Antico la sera del 1 novembre del 2011, quando intorno alle ore 22.45 una bomba mandò in frantumi la vetrata del negozio che era stato inaugurato due giorni prima, siamo vicinissimi al Due Mari. Un dato che emerge dal voluminoso fascicolo dell'operazione Perseo, il nome in codice dato all'operazione che il 26 luglio scorso ha portato in carcere 65 persone sulla base di una dettagliata e particolareggiata indagine condotta dalla squadra mobile di Catanzaro. Tra le carte allegate ci sono anche le dichiarazioni di Luca Piraina, 25 anni, uno degli ultimi collaboratori di giustizia, che nel ricostruire alcuni atti intimidatori riferisce notizie anche su quello messo a segno contro il negozio di Calzature e dell'Elefantino di Pittarello, ospitato dal parco commerciale di Feroleto, antico paese di 2.000 per anime, a pochi chilometri dalla più nota la mezza terme. Notizie spiega il collaboratore di giustizia agli inquirenti che avrebbe appreso da Alessandro Toccasio, detto il cavallo, il quale gli avrebbe riferito che nel danneggiamento effettuato al negozio di Calzature, il Pittarello, che è situato nei pressi del centro commerciale Due Mari, verginissimo, avvenuto dopo l'arresto di Giuseppe Giampa e prima dell'operazione Medusa, ha avuto un ruolo Antonio Ventura, Piraina, pur non sapendo fornire ulteriori particolari sull'attentato, riferisce che Alessandro Toccasio mi disse che si trattava solo di un'azione nostra della cosca Giampa e che vi aveva preso parte Antonio Ventura, detto pupillo, senza fornirmi ulteriori particolari, dice Piraina. Azione quella messa a segno contro Pittarello che, secondo l'interpretazione di Piraina, aveva uno scopo estorsivo e segnatamente era destinata a indurre la vittima che evidentemente si era rifiutata o pagare l'estorsione o a chiudere. Il collaboratore poi aggiunge che le notizie sul danneggiamento a Pittarello le ha apprese da Alessandro Toccasio in occasione di un discorso che stavano facendo sulla necessità di sottoporre ad estorsione due distributori di carburante che erano in corso di realizzazione sulla superstrada dei Due Mari nel tratto che porta da Via del Progresso a San Teofemio alla Mezzia, proprio perché, aggiunge il collaboratore nel verbale, temevamo che dopo l'arresto di Giuseppe Giampa la cosca Giannazza potessero attivarsi per imporre loro estorsioni in questione e quindi concordammo sulla necessità di procedere nel senso indicato per far comprendere agli stessi Giannazzo che il nostro gruppo era sempre vivo. E sul piano informativo l'operazione Perseo è una vera e propria fonte di notizie. Nel leggere con attenzione l'enorme fascicolo si apprende anche tra i due destinatari dell'ordinanza c'è un altro cognato di Angelo Torcasio, cioè Domenico Curcio, il marito della sorella del collaboratore di giustizia titolare di Mondo Pizza, l'esercizio commerciale vittima di un gesto intimidatorio. Secondo l'accusa, Domenico Curcio, in un momento di grave tensione per la cosca, Giampa si adoperava in maniera attiva per fornire notizie utili ai capi cosca in modo da porre in essere possibili strategie preservative di conservazione, di neutralizzazione delle evenienze negative, in particolare riferendo nell'immediatezza a Francesca Teresa Meliadò, moglie del capo Cosca Giuseppe Giampa, all'epoca detenuto nella casa circondariale di Catanzaro Siano, la notizia presa poco prima durante il colloquio in carcere intercorso con il cognato Angelo Torcasio in data 28 luglio 2011 relativa all'intenzione di Torcasio di collaborare con la giustizia invitandola a riferire il tutto al marito Giuseppe affinché avvicinasse in carcere Torcasio per fargli cambiare idea. Notizia che veniva effettivamente comunicata dalla Meliadò al marito Giampa, Giuseppe durante il colloquio intrattenuto dopo qualche giorno nella casa circondariale di Siano Catanzaro agevolando di fatto anche le attività di recupero corpi di reato da parte della Cosca di Giampa relative agli omicidi di Torcasio Vincenzo Carrà e Torcasio Francesco, figlio del Carrà. La posizione di Domenico Curcio, altro cognato di Angelo Torcasio, fratello di Antonio Curcio, Antoni Dupane, è assimilabile, scrive il giudice delle indagini preliminari in parte a quella di Vincenzo Perri, in quanto anch'essa viene in rilievo all'indomani della scelta collaborativa di Angelo Torcasio mediante una condotta del tutto speculare rispetto a quella posta in essere dal Perri. La posizione di Domenico Curcio scrive il GIP che emerge dalle convergenti dichiarazioni di Francesco Vasile e di Franca Teresa Meliadò e della intercettazione ambientale del colloquio carcerario del 28 luglio 2011, dato che anche Curcio, una volta appresa la scelta collaborativa del Torcasio, riferiva nell'immediatezza la novità a Franca Teresa Meliadò, cioè della collaborazione di Angelo Torcasio con gli inquirenti, di colui che all'epoca era il capo della Cosca Giampà, Giuseppe Giampà. Il GIP inoltre scrive che Curcio, tra virgolette, invitava la donna a far intervenire direttamente il marito Giuseppe Giampà detenuto all'interno della stessa casa circondariale in cui era recluso Angelo Torcasio al fine di convincere quest'ultimo a recedere dalla sua scelta. Chiuse le virgolette. E a sostegno di quanto scrive il giudice nell'ordinanza, lo stesso riporta un passo dell'interrogatorio del Meliadò, diventata anche lei collaboratrice di giustizia, dopo essere stata arrestata nell'ambito dell'operazione Medusi. Questa era la cronaca del dottor Atrello di ieri, sempre sull'operazione Perseo. Andiamo a un'altra notizia. I dubbi di CGL Cesare sull'incarico di coordinamento infermieristico, perplessità anche sulla nomina del responsabile dell'unità operativa gestione risorse umane donati. Arcieri e Rappoccio scrivono ai direttori Mancuso e Catalano. Poi il 20 e il 21 agosto al Parco Mitoio in scena il viaggio di Dante, Parco Mitoio sulla parte ovest di La Mezza, sopra l'ex comune di San Biasia. Poi il consigliere Grandinetti, nessuno vuole guerre di campanile. Interviene l'ingegnere Grandinetti sulla possibile tratta ferroviaria Germaneto-La Mezza Terme Scalo, saltando gli ex comuni di Nicastro e l'ex comune di San Biasia. Qua sta scoppiando un po' la polemica e mi sembra anche giusto lottare per avere la nuova tratta ferroviaria sempre tra i grossi centri dell'ex comune di San Biasia e Nicastro verso il Germaneto. Dobbiamo combattere un po' tutti, i politici e le persone cittadine insieme. Massimo Ranieri incanta il pubblico, cambiamo notizia, col suo originalissimo Riccardo Terzo. Oltre 800 spettatori hanno affollato l'Abbazia Benedettina, sempre nella zona, siamo sotto la Mezza Ovest e passando da Caronte si arriva in questa zona dell'Abbazia, erudile dell'Abbazia Benedettina. Molti sono lamentati che non ci sono parcheggi e il comune deve provvedere anche a questo. Per la Caccetta del Sud, per la Mezza e Provincia, Ferragosto tra nuvele e schiuma. I bagnanti non si sono però fatti scoraggiare prendendo d'assalto il litorale. Falerna, una situazione meteorologica deludente, ha fatto da cornice a un mare pulito solo a tratti. Vedete un po' questa immagine della spiaggia di Falerna, molto emblematica, con questi blocchi di cemento massi per trattenere le onde d'inverno. Qui più a nord è stato fatto un parcheggio che lascia molto discutere sul disastro che è stato fatto poi perché il mare poi ha cambiato rotta ed è avanzato. Quindi si sono messi questi blocchi di cemento per fermare il mare. Molti mi hanno detto proprio le loro problematiche che il parcheggio non andava fatto così vicino alla battigia. San Pietro a Maida. Nuovi corsi di studio in ambito artistico. Il Consiglio Comunale ha dato l'ok alla proposta di un liceo di Serra San Bruno. Poi Maida, tutti i vincitori del torneo di Tennis, Tavolo, Pianopoli. Domani il sesto Memorial, i dibocce della Prologo. Pianopoli, detenzione di droga denunciati in 15 al Festival Calafrica, operazione dei Carabinieri. Poi il sindaco uscente Putame, vediamo, risponde al PD. La campagna elettorale comincia a farsi sentire con un largo anticipo. San Pietro a Maida, un'altra piccola località qui del Lamettino. Vediamo il quotidiano delle Calabria di ieri, 17 agosto, pagina 9. Sempre sulle offerte sparite dal santuario di San Francesco di Paola. Fare luce su questa truffa. L'ex sindaco seguì le opere del giubileo. Vicenda inquietante che lascerà delle ombre. La senatrice Bruno Ganeri difende padre Rocca e si affida al lavoro delle forze dell'ordine. Pariti 1 milione e 400 mila euro, questa è una cifra molto molto rilevante sulla vicenda che vede impegnata la magistratura per far luce sulla sparizione di circa un milione e mezzo di euro da un conto corrente gestito dai frati minimi dove giacevano le donazioni da parte dei devoti di San Francesco di Paola. Sono intervenuti molti esponenti del mondo della politica ed alcuni altri del clero esprimendo pareri diversi ma tutti collegati tra loro da quella incredulità che ha lasciato a toniti fedeli e nonché oggi a pieno titolo. Oggi proponiamo l'intervista di fatta alla senatrice Antonella Bruno Ganeri, voce autorevole della città di Paola, due volte sindaco tra gli anni e il 90 e il nuovo millennio, nonché senatrice della Repubblica per due legislature. La Ganeri ha amministrato la città del tutte le informazioni sulla senatrice e c'è questa intervista che bisogna andare avanti dice la senatrice, sono rimasta francamente essere fatta a pensare che nel luogo da sempre considerato da tutti i credenti e non sede della spiritualità e della carità cristiana possa essersi effettuata ai danni dei fedeli una truffa di tali dimensioni, cosa difficile da concepire. Sono tuttavia più propensa a credere che i frati siano stati loro stessi vittime di un raggiro o almeno lo spero vivamente. Nell'altro ne posso anticipare, attendo con fiducia che sia la magistratura a fare piena luce su questa brutta storia dei soldi che sono spariti dal santuario di San Francesco da Paola. Poi tanti soldi, sinceramente io non sono neanche d'accordo che ci siano tanti soldi in una chiesa. Precalabria ora, 24 ore, pagina 13, 17 agosto, ucciso colpi di pallettoni, questa è l'edizione di sabato. Notte di ferragosto di sangue a Schiavonea di Corigliano, ucciso un uomo di origini rumene, i carabinieri seguono alcune persone, possibili fermi. Come vedete la gente impaurita, ha disturbato l'altro ieri questo tragico omicidio e cade sotto i colpi di un fucile caricato a pallettoni di Mitru Ciobanu, 43 anni di origine rumena, da qualche mese in Italia in cerca di lavoro. Il corpo esamine è stato rinvenuto nei pressi di uno stabilimento balneare Lido Cuba Libre, lungo la costa Ionico-Cosentina a Schiavonea. Tra due auto di grossa cilindrata, un Alfa 166 e un Mercedes, a determinare la morte, un proiettile conficcato nella bocca dello stomaco. Il cadavere riverso a terra, su un lato sanguinante, da un esame esterno, non presenta ferite l'acero contuse o escoriazioni, elemento questo non di poco conto ai fini delle indagini. In mano al senso tutto procuratore Vincenzo 40 del Tribunale di Rossano. Andiamo alla pagina di Lamezia del 17 agosto, sabato, l'edizione del quotidiano. Ancora raccontiamo i fatti di questa operazione Perseo. Sapevo degli affari del clan. Vediamo Bascolino Rettura che scrive ancora su questa situazione. «La moglie del boss Giuseppe Giampa ha svelato i rapporti con la famiglia. Mio padre era parente, per parte di mia madre, del giudice Calderazzo». C'è un altro piccolo articolo. Lo riportiamo immediatamente. Subito, vittivitt. «Il marito era un boss, il capo del clan. Il 28 giugno del 2012 entrambi figurarono tra i 36 e 37 arrestati nell'ambito dell'operazione Medusa. Poi si pentono e per Giuseppe Giampa e la moglie arriva. La condanna, tra parentesi, soffrendo dello sconto di pena in quanto collaboratore di giustizia, al processo Medusa. 6 anni e 8 mesi per Giuseppe Giampa e 3 anni e 2 mesi per la moglie Meliadò». La moglie del capo del pentito è stata fra le 5 donne condannate. fra queste le sorelle di Giampa Giuseppe, Vanessa e Rosa, e la madre del boss pentito, Pasqualina Bonaddio, moglie del capo storico della cosca, Francesco Giampa, detto il professore. E' appunto suocera di Meliadò. E' stata la prima volta che così tante donne della stessa famiglia appartenente a un clan venissero condannate in un processo per mafia, così come per la prima volta anche donne tra i pentiti. La stessa Teresa Meliadò, nell'interrogatorio del 19 novembre del 2012, tra parentesi contenuto negli atti dell'operazione Perseo, rivela agli inquirenti come è entrata a far parte del clan capeggiato dal marito, di cosa si occupasse dei rapporti con le gognate, la suocera e degli altri esponenti della cosca. Vi posso solo dire, da volte c'è un errore di stampa, vi posso dire che sostanzialmente le contestazioni corrispondono effettivamente al mio grado di partecipazione alla cosca Giampa, poi precisa di aver conosciuto e voglio precisare Giuseppe Giampa, quando avevo 16 anni e pur sapendo che egli era il figlio del cosiddetto professore, in effetti non avevo piena consapevolezza di che cosa all'epoca fosse la cosca Giampa e l'andrangheta. In generale addirittura vi specifico che mio padre era parente per parte di madre del giudice Calderazzo, ovviamente poi con il passare del tempo avevo modo di vedere Giuseppe che spesso maneggiava pistole oppure si occupava del taglio di sostanze stupefacenti e anche di rilevante entità. Cominciai a rendermi conto del contesto assolgiativo in cui mi trovavo a vivere, soprattutto dopo il periodo di carcerazione subita da Giuseppe Giampa tra il 2007 e il 2008 in espiazione di una pena definitiva. Quindi la moglie del boss pentito racconta che la situazione cominciò a chiarirsi sempre di più e da tre anni a questa parte ho avuto piena consapevolezza del ruolo di mio marito all'interno della cosca Giampa. Quindi rivela di aver avuto modo di incontrare i vari soggetti agitati nelle ordinanze cautelare tra cui in particolare Vincenzo Bonadì e Aldo Notarianni, Saverio Cappello, Maurizio Molinaro, Alessandro Torcasio, Domenico Giampa, Angelo Torcasio, Emiliano Fozza, Alessandro Villella, Vincenzo Giampa, detto Enzo, ricorda anche di aver incontrato il padre di Giuseppe in carcere quando era ristretto presso la casa circondariale di Bologna. Ricordo altresì che in un'occasione Pasquale Giampa, detto mille lire, dicevo di Pasquale Giampa, detto mille lire è venuto a casa nostra a mangiare, io ho preparato il pranzo per quanto riguarda i rapporti con mia suocera e con le mie cognate, spiega ancora gli inquirenti, la donna dell'ex padrino notoriamente, questi non erano molto buoni, tanto è vero che poi quando Giuseppe è stato arrestato nel 2011 io preferivo stare durante gran parte della giornata presso l'abitazione di mia madre, comunque risulta che effettivamente quando lei stesse si recavano a colloquio da mia suocera, subito dopo Giuseppe Giampa, mio marito scendeva dalla madre che abitava nell'appartamento di sotto al nostro, io non accompagnavo Giuseppe in queste occasioni, io stessa soprattutto nell'ultimo anno allora quando mi recavo ai colloqui con mio marito ricevevo medesimo dei biglietti, chiedo scusa sono io forse oggi che non ci vedo bene, chiedo scusa, allora mio marito ricevevo dal medesimo dei bigliettini arrotolati e che chiusi con il nastro adesivo su cui vi erano iscritti nomi dei destinatari come ad esempio Alex V che stava per Alessandro Villello oppure Alex T o Cavallo che stava per Alessandro Torcasio e così via, soggetti ai quali poi provvedevo a consegnare i suddetti bigliettini, soprattutto presso la casa di mia madre dove gli stessi si recavano sapendo che io di giorno mi recavo là, ricordo anche che in un'occasione poiché tra mio marito Giuseppe e lo zio Vincenzo Buonadio nell'ultimo periodo prima dell'arresto vi era stata una spaccatura per motivi di natura economica legati alla riscossione delle estorsioni, Giuseppe mi chiese di invitare Alessandro Villello e Alessandro Torcasio a riferire che da che parte volevano stare se con mio marito oppure con lo zio Buonadio, ricordo che mentre Alessandro Villello mi disse subito che stava dalla parte di Giuseppe, Alessandro Torcasio invece più titubante ed anche per questo motivo era più propensa a venirmi a trovare a casa di mia madre che piuttosto a casa di Giuseppe dove avrebbe potuto incontrare lo zio Buonadio. Questo è l'articolo che oggi c'è stata un po' di confusione da parte della mia lettura ma abbiamo capito la gravità di questa operazione per sé o che stiamo vedendo adesso tutti i reati che sono stati commessi in questi anni alla Mezia Leone sui lati oscuri dell'operazione, l'intervento, il gesto estremo degli operai della Deca SRL abolire, salire sulla torre del inceneritore dell'area che si era impegnati nell'impianto di depurazione valso a determinare l'erogazione di alcune mensalità arretrate, escluso luglio. Questo è l'intervento di Leone, i soldi dei tributi su altre priorità. Andiamo a vedere l'ingegnere Grandinetti, consigliere comunale. No alle guerre di Campanile, polemiche sul tracciato che attraverserà il centro della città della Piana. Il consigliere comunale Grandinetti replica a Catanzaro nel cuore sulle ferrovie per l'aeroporto, ancora polemico, come dicevo sulla gazzetta, per il nuovo tratto ferroviario da Germaneto alla Mezia Terme Scalo senza passare dai due grossi gentri ex Enicastro e ex Zambiasi. Ognuno ha il diritto ma soprattutto il dovere di difendere il proprio territorio. Fa bene Catanzaro nel cuore a dire la loro sulla tratta l'aeroporto di La Mezia Terme e Catanzaro ma mi permetto di dire che tacciare di localismo le nostre osservazioni mi sembra troppo. E quanto ha affermato in un'autostampa l'ingegnere Francesco Grandinetti, il consigliere comunale, in Icarica, quante scelte sono state fatte su Catanzaro per puro localismo. La centralità di La Mezia è esistita solo sulla carta e meno male che era al centro e con una grande piana se no non avremmo avuto neanche l'aeroporto. Basti pensare alla scelta sull'università, la prima a Cosenza e poi al Reggio Calabria a Catanzaro. Di fatto ignorando la Mezia Terme per non parlare della scelta della facoltà di farmacia che non sapendo dove farla a Catanzaro la si è piazzata a Borgia. Insomma io ritengo che il sindaco Abrano dal suo punto di vista faccia bene a dire che bisogna portare in centro storico almeno una facoltà. È un suo dovere difendere la propria città e non è localismo. Ma non è localismo neanche il nostro quando parliamo di tratta ferroviaria che passi attraverso i centri dell'ex San Bias e dell'ex Nicastro. Non intendiamo far costruire una nuova ferrovia ma usare il vecchio tracciato rimodernando sino a Settingiano e poi continuare con il nuovo tracciato sino alla Mese Terme Scalo. Insomma minore spese, minore consumo del suolo e soprattutto unire veramente due grandi realtà senza immarginare alcuno. Questo è quello che dice Grandinetti a Catanzaro nel cuore. Una nota di stampa perché l'altro giorno c'era un articolo di Pasquale Lettura su un altro indagato dell'operazione Perseo. Notarianni non è il sicario della cosca a Giampà. È quanto scrive l'avvocato Leopoldo Marchese a difendere il suo assistito Pasquale Notarianni in merito all'articolo pubblicato il 14 agosto del 2013 a pagina 24 del quotidiano della Calabria dal titolo Notarianni sicario della cosca in qualità di difensore di fiducia di Pasquale Notarianni preciso che al mio cliente fra le contestazioni nell'ambito dell'operazione Perseo non viene contestato né lo è stato in passato e non risulta agli atti di essere ritenuto sicario della cosca per come erroneamente è stato riportato nel titolo dell'articolo nel contenuto stesso dell'articolo. Non si fa infatti riferimento a Pasquale Notarianni come sicario della cosca bensì ad altra persona. Questa è la puntualizzazione dell'avvocato Marchese mi sembrava doveroso farlo Acquafreddo Maggio il medico Misuraca sempre dall'Ametino poi Caso Aragona dal prefetto Nocera Terinese in discussione il procedimento di decadenza avviato dal sindaco e andiamo a concludere. Il quotidiano dei giornali, i quotidiani di oggi domenica 18 agosto, il quotidiano della Calabria, pronti a sequestrare i beni e le offerte a San Francesco sparite, ancora polemica, si punta a tutelare i fondi del santuario, ci sono le indagini, Paola, gli investigatori stanno monitorando i patrimoni degli indagati, mentre staremo a vedere cosa succederà. L'omicidio di Corigliano Schiavonea, ucciso a fucilate per aver difeso due prostitute, le due donne hanno visto tutto, fermati dai carabinieri, tre albanesi e un rumeno, un omicidio fatto ieri, avanti ieri sul lido di Corigliano Schiavonea, vecchi e nuovi schiavi in un paese ridicolo, di Matteo Cosenza, poi Reggio, ricordo di Fazio, il colonnello senza fronzoli, ucciso, allora cambiamo notizia, Basso Girifalco ha ferito il vicino con la pistola, resta in carcere, Girifalco, siamo tra la mese e Catanzaro, convalidato l'arresto ed emessa la misura cautelare, le accuse sono tentato omicidio e porto di arma. Tim Cap, la regina, supera il crotone e si qualifica. parte centrale del quotidiano del Calabria, fa vedere i bronzi di Riace, fumetto, più che altro, città terribile, grottesco puntare sui bronzi, le dichiarazioni in tv del critico d'Averio, su Reggio scatenano la bagarre, l'eterna querelle sui guerrieri di Riace. Andiamo alla Gazzate del Sud, il titolo centrale, la mezzi a terme sempre, così zittivano i pentiti, bombe, almeno un omicidio per rafforzare la strategia del terrore, ricostruita una serie di attentati contro i collaboratori di giustizia e le loro famiglie, poi Taglio Alto, Catanzaro scarcerato i tre bulgari, Catanzaro ancora in fiamme l'auto di un professionista e Squillace nell'Ordigno, un chilogrammo di esplosivo trovato sull'auto di un dipendente lì a Squillace. Non vorrei fare confusione con Badolato, no, no, questo è Squillace, non c'entra niente se la bomba è esplosa, poi andiamo a vedere i dettagli. Pure le critiche dell'Unione Europea, letta dalla carica a mettere al bando l'autolesionismo, ce la faremo. La Keynes, Cecil Grant, Keynes, grinte, coraggio, civiltà e rispetto delle differenze. Questa è la nostra intervista alla Ministra che domani sarà a Reggio Calabria, altri sbarchi. Riprendiamo, poi i ribelli egiziani ci ammazzano tutti, l'esercito Sgombera, le moschee di Al-Fatah, quattro reporter italiane sequestrati per alcune ore, davvero rossa attenzione, El Cairo, Vaporetto urta gondola una vittima, Venezia muore, turista tedesco, 50 anni, ferita, la figlia di tre anni, poi in Cina più doveri che diritti, capitalismo di Stato e miracoli economici. Juventus-Lazio stasera, Tevez nella fotografia, finale Supercoppa italiana, è una delle grandi delle stelle della finale di Supercoppa tra Juventus e Lazio stasera all'Olimpico di Roma, dalle 21 dirette su Rai 1 il trofeo che apre ufficialmente la stagione, nel prossimo weekend il via al campionato. Femminicidio, Cuneo uccide la compagna a bottigliate. Riprendiamo la notizia di Lamezia sull'operazione Perseo, storie di pentiti e di ritorsioni contro familiari e amici, c'è anche questo agli atti dell'operazione Perseo che condotta dalla DDA di Catanzaro ha portato tutte ritenute affiliate al clan Giampa. La spirale di violenza avrebbe avuto inizio all'indomani del pentimento di Torcasio Angelo, detto porchetta, 30 anni e Battista Cosentino, 49 anni, arrestati nel luglio del 2011. La cosca alla quale appartenevano venuta a conoscenza della loro scelta collaborativa, pianificò una serie di atti intimidatori nei confronti dei loro congiunti. Ma non solo Angelo Torcasio è finito nel mirino, un altro collaboratore al quale fu inviato un messaggio nel luglio del 2012 e Battista Cosentino come ritorsione per la sua collaborazione con la giustizia fu distrutto il bar Mazzini di proprietà del figlio, stiamo parlando di Piazza d'Armi. Stesta sorte per Saverio Cappello nell'agosto del 2012, un ordigno fatto esplodere davanti alla sua abitazione sulla montagna mentre a maggio fu incendiato la casa del padre Rosario. Così come fu presa di mira la casa di Giuseppe Angotti e della moglie Rosanna Notarianni, anche loro collaboratori di giustizia e come atto ritorsivo nei confronti di un altro collaboratore di giustizia, Egidio Muraca, potrebbe essere interpretato persino l'omicidio di Antonio Gagliardi che è stato assassinato il 13 gennaio scorso. Quindi ci sono ancora indagini sull'omicidio di questo gennaio scorso qui a Capizzaglio. Schiavonea di Corigliano, omicidio in spiaggia, arrestati i presunti responsabili all'origine della rissa e dell'assassinio, la gestione dei ricchi affari garantiti dallo sfruttamento della prostituzione. In meno di 24 ore i garabinieri hanno stretto le manette ai polsi di tre albanesi e un rumeno considerati coinvolti nell'omicidio di Ferragosto sulla spiaggia di Schiavonea. Una pattuglia di carabiniera all'ingresso del Lido discoteca nel riquadro Dumitrache Ciobanu, la persona assassinata. Andiamo all'altra pagina della Cassetta del Sud di oggi, domenica 18 agosto. Da Locri a Reggio la missione di Monsignor Morosini, appena nominato arcivescovo di Reggio Calabria, lo ricordiamo qui alla mezza terme con i minimi di Francescani, il nuovo arcivescovo invece della città dello Stato di Reggio racconta la precedente esperienza e ribadisce il ruolo attivo della Chiesa nella lotta alla drancheta. Il giudice su Polsi e il santuario di Paola ha l'impegno a mantenere alta l'attenzione sul fronte della legalità. Un articolo di Tonio Licordari per Monsignor Morosini, ex vescovo di Locri, adesso di Reggio Calabria. Vediamo qualche passaggio. Partiamo proprio da questa realtà che ha trovato e che realtà lascia dopo i suoi cinque anni di permanenza nella diocesi di Locri Geragia. Cinque anni sono pochi per incidere in un territorio. Quando sono arrivato non conoscevo nulla a Locri, ho dovuto quindi prima di tutto conoscere dal vivo questa realtà e mi sono dedicato ad approfondire i vari problemi della Locride, nelle barrocchie della Locride. Poi la crisi ha indubbiamente colpito anche la Locride, ma il peggioramento è solo una questione di crisi. Ho avuto la sensazione che il Governo nazionale abbia abbandonato questo territorio, sono aumentati i problemi sociali e sanitari, è peggiorata la situazione nelle scuole, la politica, dei tagli non poteva e non doveva riguardare la Locride che ha bisogno, dal contrario, di una terapia d'urto per poter rialzare la testa e poi via via. Vediamo un po' un altro. In questo contesto la Chiesa cosa può fare su tutte queste problematiche? Può lanciare messaggi, fare promozione, non solo, facciamo anche i fatti, aiutiamo in silenzio le famiglie povere, le comunità parrocchiali svolgono un'altra opera sociale. Andiamo alla notizia di La Mezzia. Per concludere abbiamo pochi minuti. Allora andiamo alla Mezzia Terme, attentati a raffica, attentati a raffica per far tacere i ventiti agli atti dell'operazione per sé o contro la cosca Giampace e la ricostruzione di una frequenza di intimidazione contro i collaboratori e le loro famiglie. L'articolo sempre del dottore Natrella, di domenica 18 agosto, pentiti, confessioni, arresti, vendette trasversali, spesso il circolo vizioso all'interno della criminalità organizzata porta alla ricerca di una giustizia, fai da te, che innesca violenze su violenza, capace di prendere di mira anche amici e familiari del pentito che ora con i suoi racconti punto ad ottenere sconti di pena. Ed è un fenomeno, quello delle vendette trasversali, che ha interessato anche i parenti di alcuni soggetti della criminalità organizzata di La Mezzia, che dopo essere stati catturati nell'ambito dell'elaborazione della DDA, hanno deciso di collaborare con la giustizia. L'indomano del pentimento di Angelo Torcasio, di Battista Cosentino, arrestato nel luglio del 2011, la cosca alla quale apparteneva una venuta a conoscenza della loro scelta collaborativa, pianificò una serie di atti intimidatori nei confronti dei loro congiunti. I due si sarebbero pentiti perché temevano di essere ammazzati, permettendo agli inquirenti di sperare i primi attacchi contro quella che per anni è stata considerata una delle più cruenti e pericolose associazioni mafiose calabrese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, apprese la notizia del pentimento di Angelo Torcasio, l'allora reggente della cosca, Bonadio Vincenzo, convocò subito una riunione per decidere azione di ritorzione per convincere i collaboratori di fare un passo indietro. A riferire ai capi della cosca che Torcasio si era pentito, fu il suo stesso cognato, Perri Vincenzo, arrestato nell'ambito dell'operazione Perseo che, secondo l'accusa, in un momento di grave tensione per la cosca Giampa si adoperava in maniera attiva per fornire notizie utili ai capi cosche in modo da porre in essere possibili strategie preservative di conservazione, di naturalizzazione delle evenienze negative, in particolare riferendo nell'immediatezza a Vincenzo Bonadio. La notizia è presa poco prima durante il colloquio in carcere intercorso con il cognato Angelo Torcasio il 28 luglio del 2011 dall'intenzione del detenuto di collaborare con la giustizia, agevolando in tal modo anche lo spostamento delle armi in luoghi di custodia conosciuti dallo stesso Torcasio in modo da scongiurarne il sequestro da parte delle forze dell'ordine, aiutando di fatto anche le attività di recupero dei corpi di reato da parte della cosca Giampa relative agli omicidi di Vincenzo e Francesco Torcasio. Circostanza questa riferita anche dal collaboratore Vasile, Francesco, durante l'interrogatorio del 27 novembre del 2012 nel corso del quale ha raccontato che i due cognati di Angelo Torcasio, ovvero Domenico Curcio e Vincenzo Perri, dopo aver appreso la volontà del parente di collaborare con la magistratura, hanno lasciato il colloquio e dopo essere rientrati della mese si sono suddivisi il compito di avvisare il capo Cosca, Vincenzo Buonadio che più temeva gli effetti della collaborazione del Torcasio, convocò una riunione per fare pressioni sulla moglie Angela Cosentino. Pressione che però non produsse i frutti sperati, al tanto è vero che la moglie di Torcasio inserita nel programma di protezione a intimidire, fece un'irruzione nella casa del pentito, mentre qualche tempo dopo tentò di incendiarla, la stessa sorella di Torcasio, titolare di Mondopizza, fu vittima di un'intimidazione davanti al suo negozio e fu messa una bomba, ma non solo Torcasio Angelo è finito nel mirino delle comunità, l'altro collaboratore fu Battista Cosentino, credo, vediamo se fu inviato un messaggio, pensé luglio del 2012 a Cosentino Battista come ritorzione per la sua collaborazione con la giustizia e fu distrutto il bar di Piazza d'Armi del figlio. Atti intimidatori che proseguirono nel tempo con la consegna di un biglietto sul parabrezza dell'auto della vittima nel tentativo di costringerlo a corrispondere a somme di denaro per non subire ulteriori danni, minaccia estorsiva la quale non fu dato seguito in quanto la vittima, oltre a rifiutarsi a...